Musica Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Chiare Lettere. Oggi come sempre presso gli studi centrali di Antenna Sud qui a Bari ad affrontare una delle tematiche che come ogni settimana ci avete consigliato voi. E così continuo a parlare di reddito di cittadinanza, di economia in ripresa ma di forza lavoro che manca e quindi difficoltà da parte degli imprenditori che cercano della mano d'opera anche per offrire un servizio migliore a quelli che sono i propri clienti. E poi le partite IVA tanto bistrattate che continuano a scalpitare, a scalciare possiamo dire per vedere riconosciuti i loro diritti ma anche di credito. Si parla tanto di credito per le imprese, per gli imprenditori, per i professionisti ma è facile accedere al credito e soprattutto la ripresa è reale o è soltanto sulla carta. Insomma tanti gli argomenti. Intanto vi presento i miei ospiti qui in studio e poi abbiamo un collegamento d'eccezione con Skype e quindi sentiremo subito e daremo priorità al collegamento perché è un collegamento capitolino e quindi poi ha degli impegni ovviamente parlamentari. Intanto do il benvenuto ad Antonio Sorrento, delegato regionale del Movimento Consumatori e presidente del sindacato partite IVA PIN. Benvenuto. Salve dottoressa. Grazie. Do il benvenuto a Raffaele Tafuro, presidente nazionale di ASSO PAM. Benvenuto presidente. Grazie. Buona... E non poteva mancare poi una voce di un imprenditore e quindi do il benvenuto a Mimmo Barile, titolare di un ristorante noto barese. Benvenuto signor Barile. Grazie, benvenuto. Diamo la priorità, dicevo subito, a un collegamento Skype perché ci sono impegni parlamentari che poi l'onorevole deve seguire e diamo il benvenuto all'onorevole Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia. Benvenuta onorevole. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Grazie mille. Onorevole, entriamo subito nel vivo del discorso perché so che lei poi ha degli impegni da seguire proprio su Roma e non vorrei toglierle del tempo a quelli che poi sono i suoi doveri parlamentari. Ovviamente parliamo di reddito di cittadinanza. È il tema, l'argomento più discusso negli ultimi tempi, nell'ultime settimane, discusso perché gli imprenditori chiedono mano d'opera. I percettori del reddito di cittadinanza incominciano un po' a scalpitare nel senso sì, noi prendiamo il reddito, aspettiamo l'offerta di lavoro ma l'offerta di lavoro non arriva e quindi rimaniamo così comodamente a casa. Queste alcune valutazioni anche perché molti non vengono mai chiamati in effetti poi per avere le famose tre offerte di lavoro negate le quali, rifiutate le quali dovrebbe decadere il diritto al reddito. E poi c'è la politica che discute in questo momento, reddito sì, reddito no, la vostra posizione è in effetti il reddito di cittadinanza, in questo modo assolutamente no. E voi avanzate delle proposte sicuramente innovative anche a tutela di quelli che sono gli imprenditori. Quali sono onorevole? Allora guardi, faccio un attimo un passo indietro giusto perché sia chiaro che noi di Fratelli d'Italia siamo sempre stati contrari al reddito di cittadinanza e avevamo detto in tempi non sospetti che sarebbe accaduto quello che poi di fatto stiamo vivendo oggi, cioè che il reddito di cittadinanza collegato alle politiche attive del lavoro, quando le politiche attive del lavoro non erano in grado di funzionare in maniera corretta non avrebbe portato ad alcun risultato, anzi avrebbe avuto gli effetti esattamente contrari. Ora il primo tema è che il welfare, quindi l'aiuto a chi ha bisogno, cioè alle persone disabili, agli anziani, alle famiglie monoreddito, allora tutto questo ha a che fare con un welfare che andava strutturato in maniera completamente diversa. Dare il reddito di cittadinanza dei ragazzi di 25, 30, 35 anni obiettivamente è quello che poi ingolfa il lavoro e impedisce all'economia comunque di risalire perché oggi è molto difficile trovare della mano d'opera, l'ha detto lei in apertura ma se ne parla costantemente, insomma credo che sia soprattutto per gli stagionali un argomento quotidiano ormai. Quindi sicuramente il reddito di cittadinanza così com'è non va bene, bisogna innanzitutto modificare la platea alla quale si rivolge, quindi i ragazzi di 25 anni non possono stare a casa sul divano con la paghetta di Stato, devono andare in giro a cercare lavoro e adesso arriviamo anche alle politiche attive e apro e chiudo una parentesi, bisognerebbe ritornare al concetto per il quale non è che da subito si trova il lavoro perfetto, il lavoro dei sogni. Ora a me hanno insegnato, io sa sono di Taranto e diciamo da piccolina ci hanno insegnato un po' di cose al sud che ogni tanto mi piace ricordare, a me hanno insegnato che innanzitutto bisogna lavorare nella vita, dopodiché piano piano con la passione e la dedizione si crea il lavoro dei propri sogni, che sono però due cose diverse. Ecco noi dovremmo tornare a insegnare ai nostri ragazzi che innanzitutto bisogna lavorare e il reddito di cittadinanza questo insegnamento sicuramente non lo dà. Secondo punto, le politiche attive del lavoro. Ora il reddito di cittadinanza nasceva proprio per cercare di mettere insieme domanda e offerta. Ora il tema è però che in molti casi in Italia manca la domanda, in molti casi quella domanda richiede una offerta qualificata, cioè io ho bisogno non di un lavoratore a prescindere, ho bisogno di un lavoratore qualificato e quindi i centri per l'impiego avrebbero dovuto occuparsi ad esempio della formazione dei ragazzi in virtù di quello che l'impresa necessita. Ora se però questa funzione di collante fra impresa e quindi quello di cui l'impresa ha bisogno e la formazione dei giovani che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro, se questo collante manca i centri per l'impiego diventano assolutamente inutili. Ora il tema non è che in Italia non ci sia offerta di lavoro, l'offerta c'è ma è un'offerta qualificata e quindi ovviamente non riesce a ricomprendere tantissimi ragazzi che in questo momento mancano proprio della qualifica e quindi bisognerebbe sicuramente rivedere tutto il procedimento dei centri per l'impiego e fare in modo che diventino centri di formazione specifica che abbiano però un rapporto con l'impresa perché l'unico modo per mettere insieme domanda e offerta è fare in modo che queste due possano parlare. Dopodiché per noi tutto quello che ha a che fare con il reddito di cittadinanza, quindi i fondi, ricordo che diciamo vengono spesi più o meno 9 miliardi l'anno, sono somme molto molto importanti che possono invece essere destinate in maniera più efficace al welfare che serve veramente e contemporaneamente essere utilizzate in minima parte per avere un'efficacia reale nei confronti di chi vuole lavorare. Certo sicuramente tenere a casa i nostri ragazzi soprattutto al sud è non solo diseducativo ma in realtà poi non raggiunge l'obiettivo che è quello dell'inserimento al lavoro. Senta onorevole Lucaselli, quando è stato ideato il progetto del reddito di cittadinanza che come giustamente le ha detto ha una struttura interessante poi però è stato attuato in modo talmente fallimentare c'era un passaggio molto importante ed era quello della collaborazione con le pubbliche amministrazioni cioè i percettori del reddito di cittadinanza potevano essere utilizzati dagli amministratori quindi dal sindaco e dalle giunte essere nominati e utilizzati poi per quelli che erano i lavori di utilità all'interno delle amministrazioni comunali. Non si pensi soltanto ai lavori più umili ma anche lavorare negli uffici, supporto agli uffici amministrativi dove c'è sempre tanta carenza di personale, supporto agli uffici legislativi un supporto e quindi anche far sì che i percettori potessero integrarsi in un mondo del lavoro diventare attivi, far conoscenze e poi quando si esce da casa le occasioni si creano è diverso è prendere uno stipendio sul divano, è diverso è prendere e collaborare con l'amministrazione però pochissimi sindaci a livello regionale ma veramente pochissimi si contano su due mani hanno chiamato i percettori, c'è stato proprio questo gap, questo anello di congiuntura che nell'idea, nel progetto era vincente, in realtà non è stato mai attuato. Ecco, cosa non ha compreso la politica di questo passaggio? Innanzitutto a differenza dei lavori, diciamo delle offerte di lavoro date alle imprese era assolutamente facoltativo quindi lei capisce che diciamo diventa difficile gestire la volontà di partecipare attivamente alla vita della comunità perché poi comunque gli enti locali sono delle piccole comunità se non c'è un obbligo. Dopodiché, però guardi, torniamo sempre al punto di partenza è chiaro che in moltissimi casi, purtroppo devo dire, in moltissimi casi se si può scegliere di prendere il reddito di cittadinanza, quindi la paghetta di Stato e contemporaneamente magari fare anche qualche lavoretto a nero e però avere poi a disposizione la propria giornata, il proprio tempo stare sul divano piuttosto che fare altro oppure mettersi seriamente a lavorare dalla mattina al pomeriggio insomma, purtroppo molti scelgono la prima strada piuttosto che la seconda e quindi è chiaro che o lo strumento viene indirizzato in maniera chiara e viene anche ristretto, cioè bisogna toglierlo ai giovani bisogna dare un sostegno a chi ha veramente bisogno chi è in grado di lavorare deve andarsi a cercare un lavoro ma non tre offerte ma alla mezza, alla prima mezza offerta non accettata bisogna togliere il reddito di cittadinanza e dopodiché lei capisce che insomma il tema è sicuramente anche un tema culturale non è soltanto un tema politico ma proprio perché è culturale non possiamo andare avanti con un governo che continua a fare della assistenza continua la propria bandiera noi abbiamo bisogno di riportare i nostri giovani nel mondo del lavoro nel modo corretto quindi la politica si deve fare carico di dare gli strumenti la formazione l'incontro fra domanda e offerta dopodiché però non ci possono essere deroghe date le opportunità che sono responsabilità della politica dopodiché bisogna bisogna andare bisogna andare avanti e il reddito di cittadinanza invece è culturalmente una misura sbagliata perché insegna ai nostri ragazzi tutto quello che i nostri genitori non hanno insegnato a noi se posso chiederle ancora un minuto per rimanere in linea volevo farle sentire la testimonianza proprio di un imprenditore il dottor Barile lei è un imprenditore nella ristorazione proprio qui in Puglia a Bari possiamo dire per settori di reddito di cittadinanza lei ne ha contattati e molti come accennava il nostro onorevole le hanno proposto di venire a lavorare in nero buongiorno onorevole buongiorno a tutti allora, diciamo che c'è in giro tanta di questa gente che cerca di araffare il più possibile di non lavorare tanto il reddito di cittadinanza ha causato diciamo tutto questo perché offerte di lavoro ce n'è pure a me piacerebbe stare a casa e soffrire del reddito di cittadinanza e non fare niente però ha causato tanti tanti problemi nel nostro settore e anche negli altri negli altri settori lavorativi io penso che debba essere gestito meglio questo reddito di cittadinanza perché questi ragazzi giustamente io ne vedevo tanti ne ho visti tanti che cercavano un po' di araffare il fine settimana per poter andare avanti venivano volentieri a lavorare oggi c'è una fonte di denaro che viene viene messa a disposizione quindi mi faccio il sabato la domenica il weekend con gli amici e tant'altro tanto ho sempre una fonte di denaro che mi entra in tasca ma non avevano imbarazzo quando le proponevano le dicevano guarda io prendo il reddito di cittadinanza vengo però vengo in nero mi faccio il doppio stipendio non vedevo un po' anche di imbarazzo o no era tutto normale per questi ragazzi e beh sì è tutto normale però volte e volte si ha bisogno io cerco di di non prendere di non sposare questa questa politica qua perché non non è giusto onorevole quindi è diventato siamo quasi è diventato quasi normale anche legittimare prendo il reddito di cittadinanza però vengo a lavorare in nero se mi vuoi poi è ovviamente l'imprenditore onesto che dice no in nero io non prendo nessuno guardi lo hanno io ho vissuto la stessa esperienza avevo diciamo ero alla ricerca di una babysitter per i miei bambini e una di queste persone io ovviamente le ho detto il contratto le ore insomma e lei mi ha detto guardi io posso venire però non è che per caso siccome prendo il reddito di cittadinanza possiamo evitare il contratto e quindi diciamo è capitato anche a me e obiettivamente questo falsa completamente ehm il mercato e lo vediamo adesso anche con gli stagionali io ricordo eh prima della pandemia no eh che le spiagge eh insomma in Puglia diciamo per fortuna non ci mancano però ehm per le spiagge c'erano tantissimi ragazzi che andavano a chiedere di poter lavorare per la stagione estiva adesso io sento tantissimi eh imprenditori che ci chiamano e ci dicono che eh molte volte non riescono più neanche a coprire l'esigenza del eh del turista che viene perché non hanno più nessuno e non c'è più nessuno che va a chiedere di lavorare e insomma questo è un effetto drammatico e torno a dire è un effetto culturale terribile soprattutto al sud e obiettivamente va necessariamente modificato non si può fare diversamente l'assistenzialismo di stato non serve non sviluppa lavoro non sviluppa cultura e soprattutto non dà un futuro ai nostri ragazzi questo è fondamentale dirlo perché un ragazzo di 25 anni che si abitua all'idea di essere mantenuto dallo stato e che poi può fare altro può fare nero può insomma diciamo dedicarsi ad altro culturalmente è un ragazzo che va verso un futuro che non è quello che vogliamo per i nostri giovani quindi l'assistenzialismo di stato va eliminato e insomma quando e semmai saremo al governo sarà sicuramente la prima misura che cancelleremo grazie mille onorevole grazie mille per la disponibilità e per la puntualità grazie a voi nelle posizioni che abbiamo trasmesso ai nostri tre spettatori grazie all'onorevole ilenia lucaselli di fratelli d'italia l'aspettiamo qui in diretta negli nostri studi onorevole grazie mille ci sarò sicuramente buona giornata e buon proseguimento di trasmissione perdonatemi ma devo davvero scappare a lei buona serata grazie mille presidente sorrento come fa innanzitutto la vedo triste oggi no non sono triste ma io la vedo triste le manca qualcosa si ho dovuto mandare in ferie il mio faldò io mi immagino che si sta riferendo a questo il presidente sorrente i nostri tre spettatori lo sanno perché ci seguono il presidente più volte è venuto in trasmissione in questo lungo anno di palinsesto è stato spesso ospite a Chiare Lettera è sempre venuto in trasmissione documentando le battaglie del movimento le battaglie degli imprenditori delle partite IVA quindi dei negozianti dei commercianti dei professionisti perché le partite IVA poi racchiudono un mondo veramente dai grandissimi ai piccolini che incominciano a coltivare ambizioni e quindi lui veniva ogni volta accompagnato tipo copertina da Linus da questo faldone che ogni volta cresceva e lì c'erano le interrogazioni parlamentari presentate tramite i parlamentari di riferimento le audizioni alla Camera le audizioni al Senato e anche gli obiettivi raggiunti le battaglie vinte quelle messe stand by insomma il nostro piccolo faldone documentava tutto oggi però il faldone non c'è sono finite le battaglie assolutamente no il faldone fare una battuta è andato in ferie ma non è vero perché è in mano al nostro CTS al nostro comitato tecnico scientifico perché il comitato tecnico scientifico del governo è stato mandato in ferie noi invece non andiamo in ferie come giustamente ogni partita IVA che si rispetti fa e quindi stanno lavorando su una nuova rottamazione terra quindi su una nuova proposta è partita proprio ieri di domenica quindi insomma lavora anche di domenica una nuova PEC dove abbiamo chiesto una l'annullamento dei pignoramenti perché in questi giorni stanno arrivando dozzine se non centinaia di cartelli esattoriali come ogni giorno accade ormai da circa un mese però sono ancora più gravose perché hanno dei pignoramenti veramente severi abbiamo chiesto un rallentamento come dire sarebbe ideale chiedere una pace fiscale non si può chiedere però almeno in questo periodo comunque dove ancora sì è vero si sta lavorando meglio parliamo di pignoramenti ovviamente a fronte di tasse non pagate tasse non pagate specifichiamo perché poi non vorrei che chi ci seguisse da casa avesse un po' di confusione non in maniera generale pignoramenti su cartelle esattoriali giunte per mancati pagamenti dove gli imprenditori non sono riusciti a pagare quindi non è mancanza di volontà è semplicemente mancanza di difficoltà quindi mancanza di liquidità e di conseguenza in questo periodo dove si dice si sta lavorando e più sì è vero ma ricordiamoci che veniamo da due anni di stop da due anni di completo buio io prima ero un po' triste invece perché leggevo il titolo di Italia Oggi che è veramente contestuale con quello che abbiamo detto poc'anzi con l'onorevole e con l'amico ristoratore il reddito di cittadinanza è molto meglio di un contratto di lavoro tutti a casa al mare a passeggio con in tasca i sussidi di Stato a me questo fa arrabbiare sia come imprenditore perché sono anche io un imprenditore e sia come rappresentante delle parti sociali perché? perché bisogna lavorare se il paese Italia è un paese vivo e attivo come è stato Sinador ed è conosciuto in tutto il mondo con le proprie bellezze con la propria manifattura con gli artigiani con i nostri bottegai beh perché dobbiamo buttare giù tutto basando il sistema economico italiano sull'assistenzialismo è veramente pazzesco pensare a una roba del genere quindi noi ogni giorno veniamo in trasmissione ogni giorno andiamo in piazza siamo stati in piazza a Bari la scorsa settimana con le pentole vuote battendo le pentole vuote per far capire che siamo giunti ormai al traguardo in negativo abbiamo delle immagini ecco la regia prontamente le sta le sta mandando queste sono proprio immagini di Bari presidente assolutamente sì questa è l'ultima manifestazione che abbiamo fatto insieme a tante sigle ormai anche i movimenti per fortuna si uniscono e quindi si cerca di parlare un'unica lingua che è quella della crisi di impresa la crisi di impresa che in questi giorni purtroppo si trova a fare conti anche con un caro carburante che ormai proprio oggi ha superato il tetto dei due euro quindi quei 25 centesimi che sono stati donati dallo Stato uso questo termine in maniera goliardica sono stati neutralizzati perché? perché insomma siamo ormai oltre i due euro immaginatevi i trasportatori immaginatevi i rappresentanti ma immaginatevi tutti coloro i quali come diceva il nostro amico l'istitutatore ci portano le materie prime per poter lavorare è chiaro che è tutto un processo a catena in negativo perché aumenta tutto ebbene lo Stato deve prendere una decisione che sia una decisione seria non il contentino dei 25 centesimi che ci sembra come le lemosina di Stato quando si parlava di partite IVA che si dava il contentino bisogna mettere un tetto bisogna mettere un tetto massimo dove oltre quella cifra il carburante non deve salire e quindi in quel caso bisogna iniziare a lavorare sulle speculazioni perché non è sì c'è una guerra sì ci sono varie difficoltà ma non è solo la guerra far salire il prezzo dei carburanti e dell'energia quindi un tetto massimo è quello che noi come associazioni chiediamo una presa di posizione e una presa di coraggio ma io su questo non credo che avvenga possa avvenire l'eliminazione completa delle accise perché se si eliminassero le accise dai carburanti quello è una battaglia è una battaglia ma siamo giunti anche a tempo determinato noi abbiamo fatto una petizione parlamentare che è stata pubblicata in senato sei mesi di eliminazione a tempo determinato scenderebbe il carburante a 1 euro e 30 centesimi 1 euro e 40 centesimi diventa fattibile per tutti assolutamente sì Presidente Tafuro Presidente nazionale di Assopam si parla tanto di accesso al credito per le aziende per gli imprenditori per i professionisti ma è realmente semplice accedere se ne parla come se fosse veramente a portata di mano ma è realmente semplice accedere al credito guardi da quello che ci risulta a noi no cioè è abbastanza complesso il discorso del credito perché le banche ormai hanno preso delle scottature poi c'è stata l'entrata in vigore del 141 del 2010 che è stato purtroppo come dire l'anticamera di quello che stiamo vivendo e quindi dal primo gennaio del 2013 ad oggi è cominciata la discesa del credito perché prima si è dato la problematica dei muti subprime poi è uscito il problema delle aziende che non pagavano più poi ormai lo Stato magari la politica ci marcia su però effettivamente si parla solo di slogan di fatto il settore del credito soffre abbiamo già con l'entrata in vigore del 141 del 2010 abbiamo avuto siamo passati da 200.000 operatori del credito a poco più di 20.000 per quanto riguarda le reti terze poi abbiamo avuto una una netta chiusura ve ne accorgete basta guardare nelle vostre città e vi rendete conto degli sportelli bancari chiusi quindi abbiamo addirittura circa 15.000 sportelli bancari chiusi nel giro di pochi anni abbiamo 50.000 dipendenti bancari in meno quindi abbiamo tutto diciamo dati negativi quindi chi parla di positività molto probabilmente non sa di cosa parla o parla d'altro insomma alle volte la realtà reale è molto diversa da quella virtuale o quella che alle volte ci vogliono propinare poi la colpa è sempre della stampa dico la stampa dice in realtà noi la stampa la realità la diciamo ecco perché alle volte diventiamo scomodi noi ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito per raccontarvi un paese reale non virtuale qui a Chiare Lettere Bentornati nuovamente a Chiare Lettere siamo qui a parlarvi del mondo mondo reale perché spesso mondo reale mondo virtuale letto con le lenti della politica è proprio totalmente diverso ma noi vogliamo raccontarvi quello che accade realmente qua quello che accade nelle attività che affrontano ogni giorno la quotidianità quindi la difficoltà anche di conciliare domanda del cliente offerte imprenditoriale non è semplice in questo momento all'uscita da una pandemia mondiale dove c'è tanta voglia di ripartenza tanta possibilità di ripartenza perché tutti gli utenti vogliono vivere vogliono riprendere in mano la propria vita ma tanti freni a mano tirati freni a mano poi offerti non agevolati non lubrificati possiamo dire a chi dovrebbe farlo quindi dalle istituzioni dalle parti sociali insomma apparentemente siamo alla guida di una Ferrari ma abbiamo il motore di un cinquantino di uno scooter cinquantino ho omologato una similitudine che piace tanto a una delle mie figlie e quindi sarà contenta ma rende l'idea io do il benvenuto in collegamento Skype al dottor Stefano Sfrappa presidente nazionale del sindacato italiano commercialisti benvenuto presidente buongiorno buongiorno a tutti insomma parliamo di mondo reale e mondo virtuale sulla carta le aziende l'imprenditore le partite IVA parliamo sintetizziamolo in questo modo partite IVA che poi racchiude tutto il mondo vicino a voi dovrebbe essere pronto a ripartire in realtà tante sono le difficoltà tanti sono anche ora gli aiuti che non arrivano tanti anche i blocchi proprio burocratici dottore che difficoltà si incontra in questo momento guardi io premetto che personalmente sono un ottimista inguaribile però in questo in questo consesso vero nubi nere all'orizzonte ma un orizzonte abbastanza immediato perché ci sono tutta una serie di condizioni negative che stanno determinando la cosiddetta tempesta perfetta a cosa faccio riferimento faccio riferimento al fatto che nel settore dell'edilizia come molti di voi sapranno stiamo attraversando un periodo molto difficile con imprese in crisi perché i crediti sono stati bloccati i crediti che avrebbero potuto essere ceduti o sotto forma di sconto sotto forma di cessione vera e propria veri e propri sono stati bloccati da tutto il sistema creditizio italiano questo sta mettendo in grandissima difficoltà non solo le imprese ma tutto l'indotto e tutto il sistema paese poi sono altri temi e difficoltà altrettanto emergenziali è ripresa l'inflazione è ripresa corrente dell'inflazione e lo stanno vivendo sulla propria pelle le imprese sotto forma di aumento del costo del denaro poi c'è un tema legato che ancora forse non abbiamo toccato con mano le conseguenze ma aspettiamocelo a giorni il tema della siccità il tema della siccità che sta comportando anch'esso e comporterà ancora di più un aumento notevole non solo sui prezzi dei prodotti ortaggi e frutta ma da questo ne conseguono tutta una serie di aumenti che vanno ad innescare quel ciclo inflattivo che è stato forse generato dalla guerra che è insolta nel centro dell'Europa da febbraio 2022 e poi c'è un ultimo aspetto che secondo me è altrettanto drammatico cioè il caro energia il caro energia è determinato non solo dal gas ora sappiamo tutti che ci tagliano le fonti di approvvigionamento il governo sta correndo ai ripari con fonti alternative e con provvedimenti tampone i famosi 200 euro in busta paga che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano ora questo tema del caro carburante alla pompa vediamo in certe zone del paese che il carburante è già arrivato a 2,1 2,2 euro quando invece sono certi paesi come ad esempio la Polonia ho detto in un post qualche giorno fa che la benzina costa 1,3 euro quindi stiamo parlando di quasi 1 euro di differenza quindi tutto questo rende il nostro paese assolutamente non competitivo e le nostre imprese stanno soffrendo tantissimo questo problema drammatico del caro energia e del caro carburante io immaginavo ad una qualche forma di reazione che parta dalla base dal popolo dai cittadini dai contribuenti perché credo che né questo governo né un altro che dovesse arrivare dopo Draghi possa risolvere questi problemi drammatici che sta attraversando il paese perché si è innescato un processo di carattere speculativo non è solo la guerra non è solo il covid ma c'è una speculazione sottostante determinata dai signori del petrolio dai signori delle pompe che vogliono farci credere che il problema si risolva scegliendo bene qual è la pompa giusta alla quale fare il rifornimento mentre invece vediamo che i prezzi sono abbastanza omogenei altissimi dappertutto salvo qualche differenza tra l'altro non sostanziale con riferimento alle diverse aree del territorio e allora che cosa pensi e che cosa immagina io non credo che da questo dramma economico che sta prospettandosi ne usciremo con i social con le proteste like non like o con i provvedimenti che sta mettendo in campo il governo perché servono casomai dei provvedimenti strutturali che non vedo però esserci nell'avienda del governo io credo che serva una manifestazione esplicita dalla base ad esempio evitando di utilizzare l'automobile un giorno un giorno tutti a piedi non so se qualcuno di voi si ricorda lo shock petrolifero anno 1973 laddove per motivazioni diverse il governo impose la domenica di lasciare la macchina nel garage io credo che il popolo i cittadini le associazioni consumatori le associazioni di categoria potrebbero dare un segnale importante in questo senso perché un giorno con le macchine ferme può significare un danno notevole a carico di coloro che stanno speculando in ordine a questa situazione drammatica assolutamente emergenziale e purtroppo post pandemia cioè usciamo da un'emergenza e se ne sta prospettando un'altra di ancora maggiore importanza a mio avviso in realtà dottore questa sua proposta si sta attuando nella pratica nel senso che molte persone non se la possono più permettere la macchina molti scelgono di andare a piedi perché non hanno i soldi per mettere benzina e le dico di più io mi sono raffrontata e confrontata in questi giorni anche con persone che lavorano fuori sede insegnanti poliziotti gente che lavora anche alle poste impiegati che magari devono fare ovviamente per raggiungere il posto di lavoro 80-90 km al giorno è normalità è vita reale beh proprio ieri parlando con una di queste persone ho detto domani che giornata hai ho fatto una domanda che si fa tra amici mi ha detto domani mi metterò in malattia perché non ho i soldi per andare al lavoro per mettere la benzina e questa cosa mi ha lasciato le dico mi ha lasciato è molto turbata mi ha lasciato pensierosa ho detto come ti metti in malattia ma se stai bene perché ti metti in malattia dico non mi metto in malattia perché non posso andare a lavorare non ho i soldi per mettere la benzina qui stiamo arrivando a un livello drastico in cui anche un dipendente statale deve scegliere se andare a trovare una scusa per non andare a lavorare o se mettere benzina alla propria auto perché incomincia a essere un privilegio un lusso anche mettere benzina questo è vero questo è vero concordo con lei però penso anche che l'impatto e la forza di un'azione organizzata strutturata con il coinvolgimento dell'associazione dei consumatori e di categoria possa dare un segnale ben diverso ben diverso di lotta contro questa speculazione che si sta verificando in maniera a mio avviso oramai plateale la posso trattenere un minuto ancora in skype perché volevo farle sentire una risposta a una domanda che farò a un ristoratore a un imprenditore lei poco fa mi ha detto in un fuorionda si parla tanto di rincari si parla tanto di aumenti dovuti all'elettricità al caro benzina alla guerra ma in realtà le volte potrebbero essere anche delle scuse sì è vero c'è un approfitto su questo quindi molti ci marciano sopra appoggiandosi sul fatto della guerra ovviamente pure i pescatori no che devono devono uscire le loro barche per andare a pescare quando portano il fresco il prodotto il gambero scampo quello che è più almeno nel mio nel mio ristorante io ricordo che li pagavamo nei tempi diciamo di guerra come si dice 17 18 euro al chilo oggi li paghiamo 30 33 euro al chilo questo rincalo è notevole come la luce la luce io pagavo 1.900 2.200 agosto arrivavo pure a 2.400 magari tutti i motori accesi aria condizionata oggi pago 3.800 4.200 cioè proprio il doppio 4.200 ovviamente sono 4.200 euro sì sì 4.200 euro ragionando come fa la signora Maria che ci segue da casa dagli 80 anni in su che loro ancora io amo parlare con le persone anziane perché in automatico ti fanno il raffronto con la lira che poi per noi che abbiamo vissuto la lira ci riporta subito a una riflessione 4.200 euro erano 8 milioni 400 mila lire 8 milioni si comprava una macchina di livello un'automobile quindi facciamo un raffronto anche poi per minimizzare come effettivamente è aumentato il costo della vita uno stipendio medio di adesso sono 1.400 euro Presidenti con la lira con 2 milioni 800 mila lire si vedeva strabenissimo dottoressa se posso intervenire questi secondo Tridico il vertice dell'agenzia dell'entrata e questi imprenditori sono i maramaldi perché Tridico si permette di etichettare gli imprenditori italiani col termine di maramaldi su la repubblica del 3 giugno i maramaldi il termine è un termine storico vuol dire sfruttatore vuol dire persona che infierisce sui deboli sui meno abbienti ecco questi sono i maramaldi il signore che si trova ad affrontare il doppio delle spese rispetto all'anno precedente in quanto al rincardo dell'energia della materia prima e che comunque deve fare i conti con la concorrenza mica può mettere il doppio quel piatto di gamberi rispetto all'anno precedente anche perché il consumatore che è colui il quale l'avventore entra nel suo locale non è in grado di andare allora deve fare la lotta contro la materia prima contro l'aumento allora come si fa questi sono i maramaldi facciamoci una domanda e diamoci una risposta dottor frappa questi sono i maramaldi risponda lei sì sono rimasto anch'io esterefatto dalle dichiarazioni del direttore Ruffini ma soprattutto perché ha assimilato coloro che hanno un debito con l'agenzia dell'entrata ufficio riscossione agli evasori chi ha una cartella esattoriale in essere che magari sta rateizzando non è un evasore anzi è una persona che ha dichiarato tutto alla luce del sole ma che evidentemente ha avuto qualche difficoltà gli evasori veri invece se ne guardano bene dal dichiarare quindi loro le cartelle esattoriali non ce l'hanno ora che il direttore dell'agenzia dell'entrata tenda a confondere questi concetti mi ha lasciato veramente di stucco poi c'è un altro aspetto sul tema dell'evasione tributaria potremmo fare non una ma dieci puntate dedicata all'argomento le faremo le faremo posso andare avanti o ci fermiamo no no mi dia un flash e poi approfondiremo sicuramente l'argomento però concluda bisogna essere cauti a parlare di evasione tributaria vi danno sempre piccoli imprenditori e piccoli commercianti tra l'altro io personalmente non conosco un piccolo commerciante un piccolo imprenditore ricco non ne conosco questo non voglio dire che non sia una piccola evasione chiamata allo stesso direttore pro tempore evasione da sopravvivenza il problema esiste però c'è un'evasione più grande latente nascosta anche quella che fanno determinata da chi fa doppio lavoro che evidentemente non ha una partita IVA anche perché non potrebbe averla perché magari pubblico dipendente l'evasione corre online con varie piattaforme più o meno famose che non rilasciano scontinue ricevute fiscali quindi voglio dire l'evasione tributaria ha tante forme purtroppo l'agenzia delle entrate continua ad accendere i file riflettori sempre in un'unica direzione quella dei piccoli imprenditori e delle piccole imprese che viceversa sistematicamente soffrono anche attualmente grazie al caro per effetto del cosiddetto caro energia e caro materie prime grazie mille io ringrazio il dottor Stefano Sfrappa il presidente nazionale del sindacato italiano commercialisti grazie mille dottore ovviamente le faccio un invito in diretta all'aspetto qui negli studi di Antenna Sud magari la nuova programmazione da settembre per approfondire quelli che sono i temi più vicini ai nostri tre spettatori grazie a voi della considerazione e dell'ascolto grazie grazie mille a lei mi faccio fare un inciso perché forse ho fatto una piccola non vorrei essere querelato ho detto Tridico no Ruffini ha fatto quelle dichiarazioni anzi un plauso va a Tridico il presidente dell'Inps che aveva detto ultimamente come dichiarazione di cumulare il reddito cittanza nello stipendio degli stagionali quindi era Ruffini che ha fatto quella dichiarazione giusta precisazione perché avevamo chiamato in causa una persona che invece aveva detto delle cose correttissime perfetto Presidente Tafuro voi tra i vostri compiti avete anche quello di consigliare la strada più opportuna per l'imprenditore che si rivolge a voi per l'accesso a credito ma avete anche il vincolo del monomandato per quanto riguarda è un vincolo è partito in quarta il presidente è un tasto dolente che purtroppo ormai ci vessa dal primo gennaio 2014 quindi solo in Italia c'è il problema del monomandato dove gli agenti in attività finanziaria quindi gli agenti rappresentanti delle banche hanno il vincolo appunto di proporre un solo prodotto che sia un imprenditore che sia un consumatore che sia una famiglia e quindi automaticamente noi ci siamo proposti come ASSOPA in più occasioni a portare al MEF i dovuti correttivi perché la figura del monomandato non esiste neanche nel Burundi cioè solo in Italia dove qualcuno magari pensa che col monomandato si può arginare la falla dell'abusivismo è cosa diciamo del tutto sbagliata in quanto abusivismo ha dilagato appunto grazie ad alcuni correttivi che sono stati anzi alla riforma del credito che è stata appunto portata e messa in atto e oggi noi abbiamo oltre al problema del monomandato che vede in un'epoca dove tu entri a internet ti fai un preventivo di un prestito c'hai dieci soluzioni finanziarie tu entri in uno sportello di un operatore finanziario e ti deve offrire un solo prodotto e questo è alquanto come dire non in linea con quelle che sono le direttive della comunità europea se di Europa dobbiamo parlare pertanto noi come ASSOP abbiamo raccolto 40.000 firme le abbiamo portate al ministro dell'economia e delle finanze tramite il sottosegretario Freni il quale ha accolto le nostre proposte adesso sono al vaglio e speriamo che porteranno qualche risultato perché il risultato sull'economia lo stiamo vivendo tutti c'è il problema anche per quanto riguarda le banche il discorso del blocco dei bonus e quindi che si vanno a susseguire a tutte le tipologie di problematiche che ci sono oggi nel settore finanziario giusto per come dire aggiungerci al problema delle segnalazioni che incombono nelle banche in quanto ci abbiamo in Italia oltre ai disoccupati ai percettori di cittadinanza agli over 75 che non possono accedere al credito in Italia c'è un esercito di 16 milioni di italiani che sono segnalati come cattivi pagatori e dove noi abbiamo proposto un correttivo che basterebbe mettere in atto questo correttivo e che sblocchierebbe 6 milioni di italiani che potrebbero accedere al credito ma purtroppo la politica è troppo impegnata su altri fronti e quindi il credito diventa un problema marginale fermo restando che tutti noi sappiamo che l'economia gira grazie al credito pertanto se noi blocchiamo il credito si fa fatica a pensare a una ripresa su tutti i fronti dalla ristorazione dai consumatori e da tutto quello che ne concerne e quindi noi ci auguriamo il meglio ricordiamo i nostri tre spettatori Presidente spieghiamolo anche per essere considerati cattivi pagatori basta pagare in ritardo una o due due rate di un finanziamento minimo oppure anche essere di 30-40 euro fuori un fido e si passa in CAI come si chiama? allora c'è ci sono diverse banche dati c'è il CRIF il CTC l'Experian poi c'è il CERVED poi c'è il CAI poi c'è ce ne sono 10.000 ormai c'è la lotta a chi segnala meglio e questa è una grande come dire negatività poi per la ripresa economica ma la cosa più grave che noi che lei ha giustamente puntualizzato è che basta un bollettino di 30-40 euro pagarlo in ritardo se paghi una rata in ritardo massimo due viene segnalato per 12 mesi se superi le due rate quindi se uno ritarda durante il periodo del finanziamento tre rate di 4-5 giorni viene segnalato per tre rate si arriva a 24 fino ad arrivare a 36 mesi e fino ad arrivare ad alcune banche date per le segnalazioni più gravi che non vengono cancellate più a vita infatti ci sono molti imprenditori in difficoltà che una volta che entrano nella banca nella banca d'Italia una volta regolarizzata la posizione si ritrova con la segnalazione per anni se non per decenni fino a quando alcuni meccanismi non come dire tolgono la famosa allevata tolgono questa problematica e quindi noi abbiamo come dire numerose segnalazioni in tal senso che purtroppo si fa fatica a intervenire nel nostro settore per esempio durante il covid infatti parlavamo prima con Antonio Sorrento parlavamo del fatto che andavamo a Roma per per cercare di fare pressione alle autorità alle istituzioni in quanto per esempio nel nostro settore noi non potevamo accedere al prestito covid cioè come se noi fossimo non imprese ma che ne so alieni in terra e quindi in quella circostanza noi siamo più volte abbiamo fatto degli interventi nelle sedi opportune per poter far rientrare il nostro codice a teco perché all'epoca si ragiona il codice a teco per poter accedere al credito e quindi questo per farle capire che la politica è proprio sconnessa con la realtà cioè questo è il fatto e per questo io amo ormai parlare di mondo reale mondo virtuale letto con le lenti politiche signor Barile abbiamo voglia di vivere abbiamo voglia di uscire di recuperare anche quegli anni in cui siamo stati chiusi lei diciamo la risorazione sta andando benissimo in questo periodo perché andare a cenare o a pranzare in un ristorante in tutta la nostra bellissima regione o in Basilicata è difficile andare in un last minute bisogna programmarsi perché ci sono pochissimi posti però manca la mano d'opera poi per soddisfare questa richiesta e beh sì si è riattivato il lavoro che aspettavamo da anni perché siamo stati fermi per via del covid tanti anni due anni e diciamo si è accesa una candela e se ne è spenta un'altra adesso si è rimesso in moto il commercio la gente ha voglia di uscire ha voglia di andare nei ristoranti di divertirsi però adesso manca la mano d'opera manca il personale manca manca il personale perché molto dobbiamo anche a loro senza personale non sei nessuno io devo tanto al mio personale anche non qualificato perché poi entrando nel nostro settore noi cerchiamo in tutti i modi di farlo sentire a casa sua e di insegnarli tante cose anche perché nel nostro mestiere è bello io lo amo tantissimo il mio mestiere quindi invito molti giovani ad entrare in questo settore qua perché è un settore veramente che non muore mai tanti anni fa il mio primo titolare disse se vuoi rimanere sempre con il lavoro è questo il settore giusto ma mai avrei pensato che il covid avrebbe bloccato anche il mio settore quindi ripeto il lavoro si è ripreso si è ripreso anche alla grande però facciamo fatica a trovare il personale molte volte io rifiuto della gente perché non amo fare brutte figure con perché potrei riempire il locale a zeppa però mi manca il personale poi farei farei delle figure per non poterli servire quindi a costruire un impero ci mettiamo tanto a distruggerlo basta poco insomma un periodo veramente paradossale il lavoro c'è si offre ma non si accetta perché in questo momento grazie al reddito di cittadinanza si preferisce fare altro e dottor Sorretto la sua faccia dice tutto sì dice tutto perché perché se andiamo ad analizzare quello che abbiamo detto oggi in questa straordinaria puntata abbiamo toccato tutti i punti cruciali del reddito di cittadinanza l'onorevole anche ha sottolineato quanto sia inefficace quanto sia stato inefficace fino ad oggi noi abbiamo dei dati scritti soltanto l'1,6% ha trovato lavoro il restante 98,4% ha trovato l'America si potrebbe dire vabbè se vogliamo fare una battuta ma in realtà 1.153.000 percettori di reddito di cittadinanza tra reddito di cittadinanza e reddito e pensione di cittadinanza perché sono accumulate se non sbaglio il 9% la pensione è sempre un sussidio io farei una proposta secca diamo come dicevo prima Tridico ha detto in questo periodo per gli stagionali cumuliamo il reddito di cittadinanza allo stipendio che prendono gli stagionali quindi la responsabilità in capo al datore di lavoro ma perché non lo facciamo per tutte le categorie a prescindere dallo stagionali destagionalizziamo quindi lo diamo in mano all'imprenditore che viene come dire va in decontribuzione le tasse sul lavoro il costo del lavoro sappiamo che è altissimo va oltre il 25% la spesa su una busta paga di meno facciamo pagare allo Stato il reddito di cittadinanza i 9 miliardi stanziati ogni anno vengono messi in questo nuovo calderone e seguiamo l'iter all'interno di un'azienda l'iter informativo l'inserimento parlando prima con il signor Barire giustamente rispetto agli anni precedenti ora si ha la difficoltà di far provare un lavoro perché provare un lavoratore quindi l'inserimento di un lavoro cosa vuol dire costo del contratto costo della visita medica e poi dopo 2-3 giorni il lavoratore che non si è trovato bene può accadere non è magari il lavoro che si aspettava ti saluta con tutto che va a gravare le sue spese dell'impresa quindi una volta esistevano i voucher c'è stato un abuso sui voucher che il voucher costava il 25% di spesa all'imprenditore era tutto incluso in questo voucher si è passato dall'uso all'abuso usiamo non abusiamo cerchiamo di rettificare ciò che non va ma ormai è troppo tardi ormai è troppo tardi perché quando leggi poi che il sito dell'Inps dice che spesso anche persone nel frattempo non le decedute hanno ricevuto il reddito di cittadinanza o neonati scritto sul sito fonte Inps ti rendi conto che veramente siamo ormai è troppo tardi siamo ormai alla fine allora la politica deve prendersi una responsabilità se non si prende questa responsabilità come diceva il dottor Sfrappa bisogna prendere una decisione che parta dal basso dal popolo e noi ringraziamo i nostri ospiti per tutti gli argomenti trattati oggi argomenti di vita reale e non virtuale ringraziamo il presidente del sindacato partiteiva PIN delegato regionale del movimento consumatore il dottor Antonio Sorrento grazie mille ringraziamo il presidente nazionale di Assopam Raffaele Tafuro grazie ringraziamo il titolare di un noto ristorante barese il dottor Mimmo Barile grazie mille grazie a voi è un ringraziamento speciale oltre alla regia la redazione di supporto la regia sia di Franca Villa che di Bari e a tutti i collaboratori io lo do a voi telespettatori che ci avete seguito in questa stagione lunga sulla carta ma a me sembra sempre breve brevissima perché mi piace troppo essere in vostra compagnia il quinto anno di Acchiare Lettere termina oggi Acchiare Lettere va in ferie ma tornerà per il sesto anno consecutivo a settembre quindi non mi lasciate io non vado in ferie continuate a mandarmi le vostre proposte perché a settembre partiremo insieme subito ad affrontare e approfondire quelli che sono i temi a voi più caldi anche se l'estate ce ne promette delle belle ci darà sicuramente altre novità che affronteremo insieme approfondiremo insieme a settembre io vi ringrazio intanto per la per la costanza e per la disponibilità e per l'affetto dimostrato e vi do appuntamento a settembre sempre per parlarvi della nostra bellissima regione e della Basilicata Acchiare Lettere Acchiare Lettere